Dai, su, vestiti e vai con la mamma, dai. Ci rivediamo dopo, va bene? Dai, vestiti. Vestiti che ci vediamo dopo. Papà, dove andiamo di bello? E perché c'è tanta gente che sta piangendo e che sta urlando? No, è che sono tutti contenti perché vanno in vacanza. Tu vestiti e vai con la mamma. Vai. E tu, papà? Perché non vieni con noi in vacanza? No, figliolo. Io devo rimanere qua. Non posso venire in vacanza con voi. Devo stare qua a lavorare per l'Ucraina. Tu vai e mi mancherai tanto. Papà, mi mancherai anche tu. Perché piangi?